9 Mustacchio, 37 Forte, 7 Cuberdi a disposizione di mister Cristian Bucchi 22 Lesai, 2 Fazzi, 4 Acampola 8 Ricci, 10 Picamini 13 Cossemi, 17 Bermont 21 Micastro, 26 Terrani una passione, un amore, una fede queste sono le fede Terranea 1925 per la prima volta l'Umbria in Serie A grazie a lei numero 22 Simone Aresti numero 2 Damiano Zanon numero 6 Biagio Meccariello numero 4 Mardin Vajent numero 18 Luca Germoni numero 25 Marino Defendi numero 27 Cristian Ledesma numero 28 Antonio Palumbo numero 34 Stefano Pettinari numero 23 Robert Acquafresca numero 10 un ricordo indelebile Cesar Folletti a disposizione del mister Carmine Gautieri con il numero 1 Raffaele Di Gennaro con il numero 5 Alberto Masi con il numero 7 Gaetano Monachello con il numero 9 Antonio Lagumina con il numero 14 Simone Palombi con il numero 17 Jacopo Petriccione con il numero 19 Giovanni Di Noia con il numero 20 Felipe Avenatti con il numero 30 Matteo Contini Galilei con il numero 10 Matteo Contini non mi piace un gestito con queste immagini che è derubato per tutti i momenti per tutti i momenti il mio coraggio quel gestito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.